Tanto tempo fa, il mondo era fatto di poche, piccole cose. Un tavolo, un bicchiere, una sedia e una finestra da dove aspettare il tuo arrivo. Poi, come una minaccia oppure un semplice avvertimento, qualcuno inventò i giorni ed ecco che si riempirono le ore e le stanze di fantasmi, tanti quanto la vita stessa non fu in grado di contenere. Dicono che tutto quello che abbiamo è qui e che il futuro è solo un'illusione. Dicono anche che la morte non è reale e che non esiste davvero se non per chi ne ha paura. Dicono questo e tanto altro ancora. Ma alla fine della strada ci siamo tutti noi. Padre, madre, come ho fatto a non capire che la mia vita non è davvero qui? Non tra le mie mani, né tra quelle di chiunque altro, ma da qualche parte, tra la terra che calpesto e un sogno che ho fatto tanto tempo fa. Sì, lo so che siete irrimediabilmente infelici. Forse è per questo che vi vedo sempre una alla ricerca dell'altra, mentre ascoltate, devotamente, ogni silenzio, come la parola che vi è sempre mancata. Sì, lo so che vi vedo sempre.